Euronascar, il campionato più spettacolare ed emozionante, torna sulla pista di Magione il 12 e 13 settembre per le semifinali continentali. Una sfida entusiasmante, con le potenti coupé V8 da oltre 400 cavalli, una festa dell'automobilismo da non perdere. Euronascar, all'autodromo di Magione, unico appuntamento italiano della serie europea, sabato 12 e domenica 13 settembre per vivere in diretta le emozioni di un weekend in puro American style.